Sei tu, Samir? Sì. Non so perché ci hanno messo insieme. Non stavi con Corinne, la bionda, quell'alta? Non saprei. C'è un casino quel programma, chissà chi gli ha preso a Daniel. È la tua prima lezione? Sì, cioè no, la seconda. La cuffia non ti serve, non andiamo in acqua subito, vieni. Distendi, allarga, mento. Distendi, allarga, mento. Distendi, allarga, mento. Scusi, signora, ha troppi capelli che le escono dalla cuffia. Ah, mi scusi. Grazie. Distendi in avanti, allarga sui lati. Unisci le mani come per pregare un Dio, alla tua scelta. Distendi in avanti, allarga sui lati. Così, bene, movimenti fluidi. Sei molto coraggioso a cominciare alla tua età, non è mica facile. Lentamente, distendi in avanti, allarga sui lati. Scusi, buongiorno, non si entra in acqua così. Ah no, e perché? Perché si fa la doccia prima. Me la sono fatta la doccia? Non abbastanza, bisogna lavarsi, insaponarsi e sciacquarsi. Conosce il rispetto per gli altri? Guardi che io mi sono lavata, chiaro? Basta bugie! Ma è roba da matti!